Non puoi candidare Marchionne, Draghi, Tajani, Montezemolo, Gallitelli, non stiamo facendo la squadra del Milan. L'Italia ha dei problemi, vanno risolti seriamente, non ci sono ministeri da distribuire, non me ne frega un accidente. Vorrei sapere da Berlusconi come cambiamo la legge Fornea e visto che io la voglio cambiare, vorrei sapere qual è l'impegno scritto dal notaio, dal macellaio o dal panettiere di Forza Italia per mandare in pensione gli italiani. C'è il programma della Lega, non so quello degli altri. Noi abbiamo le idee chiare sulla riforma della scuola, sulla riforma della giustizia, sulla riforma fiscale, sul blocco dell'immigrazione clandestina. Non so al di là dei candidati premier tirati a caso o dei ministeri distribuiti, non so con quale criterio, quali siano le idee degli altri. Quello di cui parlavamo oggi, del fatto che stupratori e assassini non possono avere un terzo di sconto di pena perché è una follia, mi piacebbe fosse condiviso anche da Forza Italia che purtroppo la pensa in maniera diversa. Noi governiamo con il centro-destra, regioni e comuni e quindi a tutti gli alleati chiedo concretezza e serietà.